insieme al governo. Ma guardi, intanto la foto che c'è in studio la racconta, è l'esatta fotografia del centro-destra, la centralità di Giorgia Meloni e di Fratelli d'Italia. L'unico partito, come dire, monogamo del centro-destra. Non abbiamo mai fatto fuitine con il PD, come è capitato a qualcuno, né con i 5 Stelle. Siamo lì saldamente a presidiare l'area del centro-destra. Riteniamo che sia maggioritario nel paese. I dati in Abruzzo ce lo hanno raccontato. Non abbiamo perso un'elezione. Lei mi assicura che questa monogamia continuerà ad essere rispettata anche dopo il 27 di maggio. Le dirò di più, la stiamo costruendo in Europa. Oggi arrivano a Roma 30 delegazioni di 19 paesi europei del gruppo dei conservatori e sovranisti, dove Fratelli d'Italia trova ingresso. Sarà minimo il terzo gruppo europeo. Il PPE dovrà dialogare con noi per costruire con i conservatori e i sovranisti un'Europa diversa. Ma così come in Europa centrale è quel nuovo gruppo di conservatori sovranisti, in Italia centrale è Giorgio Ameloni, che con una fatica abnorme continua a tenere unito un centro-destra perché sappiamo che il futuro degli italiani è difendere le ragioni della produzione, il lavoro, le infrastrutture, lo sviluppo e non arrendersi al declino del reddito di cittadinanza né tentare fughe da patti del Nazareno 4.0. Antonello Caporale, per stare alle questioni sarde, il fallimento del tavolo sul prezzo del latte o vino rischia di cambiare.